Musica Le trecole sono vecchi coppi recuperati dai tetti, sono coppi a media 150-200 anni, lavorate artisticamente, poi diciamo di mia fattura sono qua le voce chiamate in dialetto, quella lancetta e poi la lavorazione del legno, come si vede. Poi c'è il vecchio mortaio, quello che una volta si usava per pestare i vari... Si, si faceva il pesto, il pepe, il sale, più comunemente qua in Calabria si usava per pestare il sale. Il sale, infatti, il sale. Ecco, e... E poi vabbè, ovviamente ci sono le varie... Le varie, diciamo, produzioni, ci sono taglieri, ci sono portabicchieri, motivo funghi, portatovaglioli, portastuzzicadenti... Che insomma sono inutili e servono a casa. Che possono essere utili a casa. Comunque tutto fatto artigianalmente? Artigianalmente dalla... Diciamo... Con materiale di recupero? Con materiale che... No, le trecole sono di recupero, altre invece, la lavorazione dell'argilla, e le altre lavorette, diciamo, portatovaglioli, mortai e via seguendo. Quello è il legno, diciamo che lo taglio sempre io con l'autorizzazione della forestale, poi lo stagione e lo lavoro. Grazie a tutti.